Ehi, Peter, forse ho trovato il prossimo bersaglio di Black Cat. Sul serio? Come? Secondo i rapporti della polizia, si è appena verificata una rapina nel suo stile. Ti invio la posizione. Ehi, se la incontri, non farti fregare stavolta. Sì, starò in guardia. E che... non lo so. È come se lasciasse dietro di sé una scia di sventura. Una gatta nera che porta sfortuna. Troppo telefonata, Pete. Felicia, che hai combinato stavolta? La polizia ha bloccato la strada. Se trovassi le tracce della gatta, potrei raggiungerla. Sembra che la guardia sia stata ferita. I soccorritori potranno dirmi di più. Chi è successo qui? Spider-Man! Sembra che abbiano rubato un libro raro. La guardia se la caverà. È un caso di fotocaratite. Un'infiammazione acuta delle corde. Ma si guarirà. Devo controllare il vicolo. Se è stata Felicia, devo trovarla. Un libro antico. Secondo volume di una collana. Dov'è il volume 1? Devo ispezionare il veicolo. Ci sarà qualche indizio per trovare Black. Da queste parti c'è un banco dei pegni di lusso di proprietà dei Maukio. Felicia ha rubato due chiavette da altrettante famiglie. Che ce ne fossi una terza. Devono esserci altri indizi qui. Un bengala al magnesio. Forse quello che ha cercato la guardia. Analizzando i residui posso rintracciare Felicia. Un bengala al magnesio. Un bengala al magnesio. Un bengala al magnesio. aurietà umaroni você. Un bengala alinstrumento. Un bengala al magnesio. Un bengala al magnesio. Un bengala al magnesio. A posto! Ecco la pista. Vediamo dove conduce. Non posso diventare papà. Cioè, tecnicamente posso, ma... Devo dirlo a MJ, saprà consigliarmi. Ma come glielo dico? Dovrei farlo di persona. No, di persona sembrerebbe una cosa certa, mentre non è certa per niente. Non ancora, almeno. Ma se non è certa, a che pro parlarne con lei? Magari è un falso allarme. E se è un falso allarme, perché sto sclerando? Smettiamola di sclerare! Smettila di sclerare! Non funziona. Sto ancora sclerando. Si direbbe un membro della famiglia Maukio. Spider-Man ha pestato Vito! Addosso! E questi sono i suoi fratellini. Non credete che con questo atteggiamento finirete come Vito? Come ho già spiegato ai Cicero, non lavoro per Hammerhead. Il solo fatto che possiate penserlo mi offende. Sto sta imbrigliando! L'ho ferita! Meglio tornare sulla pista. Si direbbero uomini di Amheret. MJ, ti mando la foto di una targa da controllare. Ok. Se scopro qualcosa ti avviso. Ce l'hai? Sì. Che diavolo. Dov'è la chiavetta? Ha detto di volerla dare ad Amheret di persona. Non ti avevo detto di prenderla. Sì, ma gli ha già consegnato le altre. Per cui? Ti avevo dato un ordine preciso. E non l'hai eseguito. Quindi, sai cosa succede ora? Aspetta. 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 No, no, no. Fermo! Ehi, cos'è quella faccia? Sai cosa succede ora. Uccidiamolo! Aspetta. 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 Ti ha beccato. Il capo è di sanuta! Avrò la tua testa. Perciò che c'è un peccato. Ti schiaccerò! Attenzione! Dispedisco sotto terra! Sentirei molto male! Sei morto, che hai sentito? Ti schiaccio! Posso muovermi! Ah, grandioso. A voi, ragazzi. Prestito scaduto. MJ, la gatta ha un'altra chiavetta. Un'altra ancora e Ammered avrà quelle di tutte le famiglie del Maggia. Dobbiamo scoprire cosa contengono. E c'è dell'altro. C'è questa cosa, probabilmente una cosa irrelevante, ma magari è una cosa importante, una cosa da nulla, o forse no. Ti prego, prova a dirlo senza la parola cosa. D'accordo. Se Felicia lavora per Ammered è perché lui ha rapito suo figlio. Oh, non sapevo avesse un figlio. Beh, non mi stupisce che Ammered usi questi mezzucci. Sì, ma c'è dell'altro. Ricordi che io e lei ci siamo frequentati per un periodo. Sì, quindi? Insomma, non posso esserne certo, ma è possibile. Devo riagganciare. Ok, mi richiamerà dopo essersi calmata. Spero. Me ne andrò di pattuglia, giusto per schiarirmi le idee. Beh. 'se. Uh. Come, vai. Oh, sei. Oh! Ciao! Oh! 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 Ehi, Peter! Sono Miles. Mi chiedevo... Aspetta, è un brutto momento. No, tranquillo. Che c'è? Oh, niente di che, sai. Un secondo. Stai facendo cose da Spider. Più o meno, sì. Sul serio? Tipo nello specifico? Intendi in questo momento? Proprio ora? Sì, a meno che la domanda non ti sembri inquietante o inopportuna o qualcosa del genere. Beh, probabilmente lo è. Devo sembrarti una specie di stalker. Miles, calmati. Che volevi dirmi? Niente, niente. Scusa, può attendere. Ci risentiamo. Scusa, può attendere. Uomini di Hammered. Accidenti. Che carini! Hammered vi ha mandato a fare la spesa! Questa! Tocchione! Ah! Ehi, Enzei? Punto primo. Dirigiti a questo domicilio. È l'ultimo indirizzo noto del cubo dei costa. Se la mia fonte è attendibile, l'ultima... Ascolta. No, ascoltami tu. Prima ho reagito impulsivamente. No, per niente. Hai reagito esattamente come avrei... Non stavamo insieme all'epoca e io stessa ho frequentato altre persone. Giusto. Aspetta, hai detto persone? Al plurale? Il punto è che siamo adulti. E c'è un ragazzino in pericolo. Pensiamo a salvarlo. Io non ti merito. Lo so. Ok, penso di sapere cosa contengono. Anni fa le famiglie crearono un registro contabile condiviso per mantenere la pace. Tutte le risorse in un unico posto. E per accedervi servono cinque chiavette USB. Quindi Amered ha rapito il figlio di Black Cat... Per obbligarla a rubare le chiavette e mettere le mani sui beni delle altre famiglie. Amered vuole arricchirsi in fretta e spedire sull'astrico le famiglie rivali. Dobbiamo trovare l'ultima prima che lo faccia lui. Ci penso io. Unità in zona. Rapina in corso. Probabilmente in marcia. Posizione Cathedral. Felicia... Dobbiamo parlare. Oh, mi mancano le nostre chiacchierate. Ma non attento ora. Il pulso ha mandato in corto i lanciaragnatele. Dovrò ricorrere ai metodi di una volta. Andiamo, voglio aiutarti! Allora sparisci. Se Ammer è da tuo figlio, non puoi agire da sola. Perché no? Sono abituata ad agire da sola. Ma non sei obbligata a farlo. Perché non ti fidi? Abbiamo già lavorato insieme. Ti sei già risposto da solo, lo sai? Cercarmi. Perché non è un problema tuo, mamma mia. Faccio da sola. Magari per me non è un problema. Aspetta, a meno che non parli della guerra tra bande. Quello sì che è un problema. Stammi lontano, lavoro meglio da sola. Guardiamo! Guardiamo! Lancia ragnatele riavviati. È ora del tweet-tweet. Posso aiutarti a fermare Ammeret. E come? Niente morti, nessun reato. A modo tuo non può funzionare. Felicia, riguardo tuo figlio. Devo saperlo. È per caso? È il mio figlio. E me ne occuperò io. Piccolo regno cocciuto. Voglio solo parlare. Ancora tu? Posso continuare tutta la notte, se serve. Oh, interessante. Immagino che dovrei impegnarmi di più. Devo avvicinare. Ultimo avviso. Non mi cercare. Non mi cercare. Non mi cercare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu non inseguirmi! Grazie a tutti. Tu che dici più civilmente di così? So cosa contengono le chiavette che hai rubato. Ma guarda un po', sei anche intelligente. Non lasciare che Amered abbia anche l'ultima. Se otterrà ciò che vuole, tuo figlio non gli servirà più. Lascia che ti aiuti. Hai in mente un piano? Prendi tempo. E intanto cercheremo tuo figlio. Mi sei mancato. Peccato. Siamo ancora una bella gabbia. Non di quel genere. Peccato. Ok. Posso guadagnare un paio di giorni al massimo. Senti, riguardo tuo figlio, è possibile che... Non ora. Vediamo di trovarlo. Quando sarà il senore. Ne riparleremo. Ciao, ragnetta. MJ mi ucciderà. Chiamo suo figlio. Ti ha per caso detto se... No, non l'ha detto. Ovviamente. Ma sei sicuro non ti stia prendendo in giro? La conosco. Non aiuterebbe mai uno come Amered se non fosse obbligata. D'accordo. Beh, controllerò quel numero di targa. Ti avviso se scopro qualcosa. Sono a corto di energie. Mi serve un ricostituente. E di spezza. Eddie, sono Spider-Man. Spidey! Fame da lupi? Sai com'è. Posso ordinare la solita doppia diavola? Sicuro. Consegna sul tetto come sempre? Sì, grazie. Stesso tetto dell'altra volta. Un attimo. Ti avverto quando è pronta. Mentre aspetto Eddie, farò un giro di ricognizione in città. Sì, grazie. Ehi, Miles, ho preferito richiamarti. Di cos'è che volevi parlarmi? Ehi, Peter. No, niente di importante, davvero. So che sei impegnato, ma prima o poi... Non lo so, potresti dedicarmi del tempo per iniziare ad allenarci, magari. Allenarci? Sì, magari solo le basi per iniziare. Come dondolarsi da un grattacielo. O, che ne so, da un edificio basso. Da un albero? Miles, hai 15 anni. Concentrati sulla scuola. È molto più importante di... Sì, certo. Ma se uno di questi giorni finisco prima i compiti e a te avanza del tempo... Cioè, tu hai iniziato a 15 anni, no? E ho quasi rischiato di morire almeno un centinaio di volte. Non posso esporti allo stesso rischio. Ok. Certo, capisco. Ci risentiamo. Santo cielo, che devo fare con quel ragazzo? Certo, capisco. Certo, capisco. Ok, Spaddy. La pizza è pronta. Grazie, sei il mio salvatore. No, quello è il tuo lavoro. Ma se proprio insisti, puoi farci un saluto sui social. È sempre una gran pubblicità. Contaci. A dopo, Eddie. Non pensavo si potesse avere tanta fame. Donne no leено. Ok. Ecco. Non pensavo. Non pensavo sia una parte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Uno dei dipinti rubati deve trovarsi in questa zona. 10.39, segnalate attività sospette su un tetto in zona. Convergete. Convergere verso Thunderloin. Oh, ti amo. Ma purtroppo, devo farti sparire. Pronto? Ho indagato su quella targa. È registrata una compagnia di stoccaggio di un vecchio amico di Hammerhead. Ci sono adesso? Dammi un minuto. Sono da te il prima possibile. Nel frattempo, vediamo di dare un'occhiata in giro. Allora, un passo alla volta. Mi guardo in giro, scopro se il ragazzo è qui. E nel caso, lo porto al sicuro. Che faccio se assomigli a Peter? Pianta l'MJ, non pensarci. Quello cos'è? Banconote false. A quanto pare, Hammerhead si è trovato un nuovo hobby. Prima di andare mi serve una foto. Meglio scattare una foto. Steely, mi serve una mano. Quest'affare pesa più di tua madre. Sei matto? Non posso fare sforzi. Ti ho detto che ho la s... Ok. Tu ve lo sono sopra. C'è qualcuno? Tutte quelle storie su Hammerhead che spacca crani sono esagerazioni, vero? Fai il tuo lavoro e spera di non scoprirlo. Oh, è un mucchio di soldi. Ma sembrano false. Nessun segno del ragazzo. Per quanto l'idea di Peter padre mi suoni assurda, non immagino come si senta lui. Scommetto che sarebbe un buon papà. Non mi serve un buon papà. Perfetta. Perfetta. Su, forza. Accidenti! Lo riferisco ai ragazzi. La famiglia Costa sta piantando grane. È come se volessero la guerra. Devo valutare come pianificare le prossime mosse. State allerta. E se vedete qualcuno, non rischiate. Fatelo fuori. Ho i dati della ditta di trasporto. Dovrebbero aiutarci a scoprire dove tengono suo figlio. Più tardi li esaminerò con calma. Ora devo svignarmela. In silenzio. Dannate scarpe nuove. Ok. Non me l'ho solo sopprata. Ehi. È vero che Amrè si è sopravvissuta a un colpo in testa? Altro che... Ha risputato una delle pallottole a tizio che l'aveva colpito. Poi si è fatto montare quella lastra. Forse posso rinfrescarli. Ah, che disastro! Che sistemerà ora? Tu. Io? Perché non tu? Perché invece no? Perché non entrambi? Prima tu. No. Prima tu. Uomo a terra! Sono rimasta anche troppo. Meglio andare. È in fretta. Ok, gente. Venite. Dobbiamo discutere della situazione. Credi che i costa si riveleranno un problema? Per ogni grana che piantano, Amrèd può piantarne una più grossa. Vite. Dobbiamo discutere della situazione. Credi che i costa si riveleranno un problema? Per ogni grana che piantano, Amrèd può piantarne una più grossa e più sanguinosa. Ehi, chi è là? Stavolta ci è mancato poco. Ma porca di quella... Scusa, 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 scusa. Che accidente ci fai qui? E come mai odori di pizza? Perché... perché ne ho appena mangiata una? Beh, mentre tu ti davi ai carboidrati, io raccoglievo indizi per localizzare un bambino rapito. Ma l'ho devorata in un attimo. Ho altre piste da seguire. Ci sentiamo più tardi. Però memoria. Non stare appesi dopo una doppia diavola. Ah. Non stare appesi dopo una nuova. 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 Grazie.